8.400 euro al mese è quanto costano in media ciascuno dei nostri consiglieri regionali e sono tutti i soldi che escono dalle nostre tasche e siamo sempre noi a mantenerli quando vanno in pensione. E sapete a quanti anni vanno in pensione? A 55 anni con 2.500 euro oppure a 50 anni con 2.000 euro. Ovviamente paghiamo noi anche le loro liquidazioni e chi paga gli 8 milioni di euro previsti nel bilancio 2010 della Regione Lazio a disposizione dei politici? Senza contare le spese di rappresentanza, le auto blu e i faraonici rimborsi elettorali. Deturpano le nostre città perché sanno che non pagheranno nemmeno un euro di multa. Spendono milioni di euro per la campagna elettorale perché sanno che una volta eletti ne arrafferanno molti di più. Tutti questi soldi non fermano le mazzette e i favori in corso fatti ai soliti noti. Secondo la Banca Mondiale e la Corte dei Conti la corruzione in Italia supera i 50 miliardi di euro l'anno. Chilometri di denaro delle nostre tasse che creano il più costoso e meno efficiente apparato della politica di tutti i paesi industrializzati. Il 28 e 29 marzo tu puoi cambiare le cose. Non lasciare che gli altri decidano per te. Vai a votare! Grazie a tutti!